Eccoci, ci siamo. Puoi parlare con Lecter. Benvenuta, Clarissa. Dottor Lecter, mi serve il suo aiuto. No, 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 te lo darò solo se c'è un doubt death. D'accordo, quale sarebbe? Voglio che Mario Lopez registri il messaggio di saluto sulla mia segreteria. Come? Lei è folle, è una grande star in questa particolare scheggia di tempo. Trova il modo, è la mia condizione. Scusa, questi Capri Sun sono notoriamente difficili da aprire.